L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Il Sinodo ci offre l'occasione preziosa di riscoprire la dimensione di popolo di Dio in cammino, la dimensione di Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo ad ogni uomo, condividendo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Con queste parole, Monsignor Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi Cava dei Tirreni, apre la sua lettera che indirizza a tutta l'Arcidiocesi. Non possiamo quindi sottrarci, non possiamo non cogliere questo tempo di grazia per restare sereni nei perimetri rassicuranti delle nostre sagrestie, riducendo il Sinodo ad una serie di eventi o ad un'indagine socio-religiosa, afferma l'Arcivescovo. La sinodalità e dimensione costitutiva della Chiesa non designano a semplice procedura operativa, ma esprime la forma peculiare in cui essa vive e opera. Oggi il cammino diocesano si innesta nel Sinodo della Chiesa Universale, per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Rispetto ai convegni ecclesiali nazionali, la sinodalità si esprimerà con un movimento dal basso verso l'alto. Non si organizzeranno eventi pensati e preparati da un gruppo qualificato e ristretto, ma sarà il frutto del cammino, che dal 2021 al 2025 si svilupperà in tre fasi, narrativa, sapienzale e profetica. Dal 2025 al 2030 è prevista la fase di ricezione. È importante e bello vedere in questo intreccio di cammini non un'ulteriore complicazione, ma il segno del soffio dello Spirito sulla Chiesa e sul mondo. Occorre quindi accogliere la sua sfida a guardare più in alto e più lontano, senza mai abbandonare la concretezza dei passi sul territorio, senza mai smarire la direzione del cammino. E ancora, questo intrecciarsi è un motivo in più per ravvivare la creatività, l'entusiasmo nell'annunciare la gioia del Vangelo, in un tempo di complessità, incertezza e fatica, che partendo da un atteggiamento di autentico ascolto, si imparerà a leggerlo come tempo di grazia. Questo ascolto avverrà nei percorsi di consultazione nelle diverse aree, organismi di partecipazione ecclesiale, uffici pastorali diocesani, parrocchie e comunità, unità pastorali, gruppi sul territorio e negli ambienti di vita, nell'ascolto delle voci di tutti, che si strutturano in dieci nuclei tematici, così come indicati dal documento preparatorio per il Sinodo Universale. Dopo aver avviato il cammino sinodale nella nostra Chiesa locale, sono stati scelti Antonio Porpora e Carmelo Infante, come referenti della fase diocesana del Sinodo. Il compito dei referenti, dunque, accompagnati da un'equipa preposta e da una rete di referenti parrocchiali e foraneali, sarà quello dell'abile artigiano, che intesse senza nodi la trama e l'ordito della vila, con la quale la nostra Chiesa potrà prendere il largo sotto l'azione sempre nuova e creatrice dello spirito. Pertanto, Monsignor Sorricelli ha esortato a iniziare ufficialmente il cammino sinodale in tutte le parrocchie dell'Arcidiocesi. Domenica, 16 gennaio 2022, con l'intronizzazione dell'icona del Sinodo che sarà consegnata ai parroci nei prossimi giorni.